. Selena Gomez, la convivenza con TVEKND è alle porte . Pagare l'affitto, portare fuori il cane, cucinare insieme, d'ora in poi, ogni piccola attività quotidiana diventerà per Selena Gomez e TVEKND un'opportunità per stare insieme tra un'incombenza da cantante di successo e l'altra. La convivenza sarebbe infatti imminente. . Selena Gomez e TVEKND convivranno. La convivenza tra Selena Gomez e TVEKND è alle porte, e non vediamo l'ora di scoprire come andrà a finire. . 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 Starebbero coronando il loro sogno d'amore, completa di particolari molto specifici, soffitti altissimi, balconate e cucine all'inglese. La parte migliore è il bagno padronale, pieno fino all'orlo di effetti personali e completo di una doccia di vapore e una vasca da bagno color. La coppetta, che normalmente viveva a Los Angeles, si è dunque trasferita nella grande mela per fare il primo, grande passo verso una relazione più stabile. Loro, che ormai stanno insieme da gennaio, volevano trovare il giusto nido d'amore di dedicarsi l'uno all'altra nel tempo libero. Sebbene questa sistemazione sia secondo molti provvisoria, attualmente i due non sono mai stati così felici di poter stare insieme tutti i giorni. Selena Gomez e Teve Ekind metteranno su famiglia? L'idea che Selena e Teve Ekind, a Beltesfai e all'anagrafe, potessero mettere su famiglia era già balenata un po' a tutti. Soprattutto lui sembrava particolarmente allettato all'idea di sistemarsi e, perché no, programmare dei bambini. Secondo una fonte anonima, infatti, Teve Ekind avrebbe presentato questa possibilità a Selena, facendole sapere che niente lo renderebbe più felice di avere una piccola, graziosa fotocopia della sua ragazza che trotterella in giro per casa. Questa relazione apparentemente perfetta arriva per Selena Gomez dopo anni di tumulto. Dal 2011 al 2015, infatti, la cantante di Fetish si trovava in una relazione complicata con la pop star canadese Justin Bieber. Come saprete, la relazione non è finita affatto bene. Dopo qualche mese di riabilitazione, infatti, Selena Gomez ha deciso di prendersi un po' di tempo per sé, per ricostruire la sua carriera e soprattutto il suo cuore. Attualmente la bella regina di Instagram sta girando il nuovo film di Woody Allen. Di questo progetto cinematografico abbiamo ancora pochissime informazioni, ma sappiamo che con Selena a bordo, e la mente brillante del regista più indiscreto del mondo, le premesse per un buon film ci sono tutte. Grazie per la visione!